Fabiola e Max hanno raccolto questo Bambi che era stato investito parcialmente alla bocca da una macchina sull'autostrada con grave pericola anche della loro incolumità e adesso si è appena alzato, finora era sempre stato disteso e accarezzato da Fabiola ma non sappiamo veramente che cosa che cosa possiamo fare scansa, rinte e scansante buttiamo la ghettis per domani è stanco, ci è stancato ci è stancato ci è stancato cucina, amore, amore allora Max scusa cosa vuoi fare domani? domani lo portiamo a Gettysburg al Second Chance Rescue cosa c'è lì? Second Chance Rescue ma lì ve lo ammazzano? papà per favore si sta bene no si sta ammazzando gliel'ho detto se si alza e cammina è fuori pericolo non è fuori pericolo no? ha detto se si alza e cammina una cosa non si alza un'altra no se non c'è sempre che ca trema eh? respira e fatica beh si è fatto un bel giro ecco la creatura ha fatto il giro una volta intera Sì, 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 sì. Buon appetito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.